Sì, sono in piccolo, perciò la giusta di giusto, io sui ricordate, e abbiamo vinto il nostro posto! Non è un suo capo? Eh dai, la signora Johnson lo stava a dimerare! Eh, come la Johnson, raggio dalle gaffe su, facci vedere il cuore! Scusi, signora Johnson... Eh, eh, ehi, caglietto! Hai paura che te l'avevo via? Dai, vado a provare! Vi spieghi a cercare la nostra politica non prevede, prove! Beh, non sopprò per chiudere un'altra! Chiuderemo, chiuderemo, frappi a tutto! La macchina più economica di questo salone costa 75 mila dollari! Ci sono qui? Eh, dunque a me che me ne frega, caglietto! Sì! È lei! E vai! Questo è il mio amico segna a gusto! Soprattutto un 412! Merda secca! Che altro? Ma che dici, caglietto, questo è un pazzo di lavoro! E quanti ce ne ho, io non mi chiesto al 100? Di più, 285! 285! E poi sembra giucci a morte! Su 100! Quanto di una macchina se ritornano? 8 mesi da qui! Così tanti! Sì! Avremo il calo con la macchina! Chissà com'è il motore da 285! No, il motore è lì dietro! Quello è qua! È reale! Per, 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 per! Per, per, per! Per, per, per! Per, per, per! Per, 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 per! Per, 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 per! Per, per! Per, per! Per, per! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.